Ricorda che quando indosserai questa maglia rappresenterai tutto l'amore e la passione che i tifosi della Menzana hanno per questi colori. Quindi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, a te e i tuoi compagni e sono sicuro che se giocherete con il cuore saprete regalare tante soddisfazioni e renderete orgogliosi tutti i vostri tifosi. Un bacio, mi mancate, a presto! E spero che Siena possa tornare a livello che aveva un po' anni fa. All the best from me e spero che ci vediamo questo anno. Ciao! Menzana significa tutto per me, ho avuto la migliore di Siena e significa molto. I mean you guys are the best fans in Europe and I definitely enjoy my time in Siena and I wish you all the best. Can't wait to see you guys again. I definitely will be back in Siena soon, maybe next summer. Can't wait to see you guys. Ciao! Best way I can describe playing with Menzana is obviously playing with the club with a big history, great supporting fans and a winning tradition. I want to wish you guys the best of luck for this upcoming season in Bocca Lupo. Forza Menzana, Forza Siena, salute! Ciao! Questo parquet impregnato del sudore di atleti come Franceschini, Ceccarini, Bovoni, McIntari e molti altri. Delegnatori come Cordaioli, Lombardi, Charlie De Calcati, Pianigiani. I muri di questo palazzo trassumono di storia e fatica. Rispetto ai colori della Menzana, lotta con furore e passione e sarai amato per sempre. Giocare per la Menzana è un onore. È un piacere che ti rimarrà dentro per sempre. Vi voglio bene ragazzi! Per me Siena è una seconda casa, perché visito per 4 anni ho messo e sono stato benissimo. Indossare la maglia della Menzana è stato un onore e deve essere un onore. Voglio mandare questo messaggio a tutti i tifosi dicendo di stare sempre vicini, come sanno fare solo loro alla Menzana. E prossimamente vi prometto che vi vero a trovare. Sempre forzame sana! Ciao!